Una bellissima giornata di rugby la scorsa domenica al campo dell'incoronata a Sulmona. Nonostante le condizioni del meteo non favorevoli, l'open day al femminile è stato un successo. Presente alla manifestazione 18 ragazze con età dai 10 ai 26 anni che hanno mostrato molta soddisfazione per la bella esperienza. Ottima l'organizzazione dell'evento da parte del responsabile provinciale femminile Giuliano Bianchimani. Il Sulmona Rugby è da sempre impegnato nella promozione di questo sport ancora poco conosciuto al grande pubblico e nel promuovere i suoi valori. Un insieme di regole non scritte di buon comportamento. Il rugby è uno sport nobile basato sul rispetto. Anche il più ideato nemico ne è degno. Grazie al Sulmona Rugby, uno sport che fino a poco tempo fa era prevalentemente praticato da ragazzi, inizia ad essere apprezzato anche dal pubblico femminile. Ed il successo di questo open day nella dimostrazione.